Questa è la terza tappa, scusa, siamo davanti alla scuola elementare e media, davanti no però, davanti no, davanti no, signora davanti no, è partito un applauso, intanto è partito un applauso, eccolo, è sceso in questo momento, ha salutato il sindaco del Solacuca, c'è il presidente della regione Polaccini, ora acclamato dagli studenti della scuola che